Eccoci qua, siamo in Scuderia oggi con Denver. Cosa facciamo oggi Denver? Dicelo tu? No, niente. Lui è timido, oggi non ci vuole dire il motivo per cui siamo qua. Oggi facciamo una ciasciatura completa con questa nuova ciasciatrice, che ci è arrivata da poco. Lister Eclipse della famiglia Wall Italia, molto maneggevole, a batteria e con un sacco di caratteristiche importanti, poi ve li mettiamo in discussione. Incominciamo a tosare. Prima di tosare, di partire con la tosatura, abbiamo pulito a fondo il cavallo, il mantrò del cavallo, con Skin Wash Pin Up. Questo permette una tosatura senza righe e il grasso del cavallo non si attacca alle lame della tosatrice. Ho finito di tosare Denver con una tosatura da cazza. Il lavoro è venuto perfetto, in circa 40 minuti. Abbiamo fatto tutto il cavallo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.